Presidente, il Partito Democratico e la maggioranza tutta non devono neanche lontanamente pensare di addebitare la responsabilità al Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico conta 300 Colleghi, per favore, ripristiniamo delle condizioni adeguate in quest'Aula. Vada avanti, deputato Pennelli. Presidente, e se c'è una forza politica responsabile, questa non è certamente il Movimento 5 Stelle, perché quest'Aula conta una maggioranza abbondantemente superiore, arriva fino a 400 parlamentari. E oggi una forza politica, il Partito Democratico, sa cosa sta facendo? Perché gli italiani tutti lo devono sapere. Questo emendamento era un emendamento di giustizia perché applica la legge elettorale al Trentino. Cosa volevate fare? Che il Trentino fosse un feudo del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle non voterà mai contro norme di giustizia. Voi, se non la volevate, dovevate votare contro. E se non c'è stata la maggioranza, nessuno dica che è colpa del Movimento 5 Stelle, che conta 80 deputati che hanno votato. Quindi c'è un ritorno ammittente per il Movimento 5 Stelle. Caro Partito Democratico, questa legge può andare avanti. Il fatto che si applica da Trentino va bene. Se dovesse bloccarsi l'iter di questa legge, c'è un unico responsabile che a causa di un accordo fatto con una forza localistica, vuole bloccare tutto. Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Questa responsabilità ve la assumerete nei confronti degli italiani e del Presidente della Repubblica. È vostra! Voi non siete in grado di tenere il partito. Noi abbiamo detto che votavamo a favore e lo abbiamo fatto. Vi dovreste vergognare. Non certo date a noi la pura responsabilità. Grazie! Grazie! Grazie a tutti!